il primo gol di quest'anno l'italiano recupera palla De Vrij quindi Barella di prima attenzione per Dumfries che può metterla dentro Lautaro il gol di Lautaro minuto 7 l'Inter è in vantaggio il primo gol di questo campionato lo firma capitano Lautaro e de gola Lautaro Martínez e de gola attenzione per l'altaro gol laso del toro che all'ottavo minuto la sblocca primo gol dell'anno Lautaro gol del 10 chi è che dice che non è cinico chi è che dice che non segna dopo i 28 gol dell'anno scorso Barella dove c'è Dufris Dufra Lautaro sempre lui il capitano Lautaro Martínez su assist di Dufris 1 a 0 Inter parte col pum 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 col botto la stagione dell'Inter 8 minuto 1 a 0 ma avete visto che pallone hanno perso questi ma dai sono stati pagati sono stati pagati però caprali la perde mamma mia barella che miglia dai bravo gol gol di Lautaro Martínez è gol l'avevo sentito nell'aria gol di Lautaro Martínez era nell'aria avevo detto monte di difficoltà 1-2 apertura geniale geniale di Dufris chiediamo scusa a Dufris vabbè suca 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 primo suca dell'anno 6 minuti quello che ci ha messo il Frosinone a far gol ce l'ha messo anche Lautaro anzi forse prima ancora gol Lautaro Martínez primo gol segnato davvero a prima punta bravissimo Lautaro il toro di Bahia Blanca la mette subito dentro ragazzi eh sì eh sì ci aveva provato qualche minuto prima qualche secondo prima è subito il toro con la fascia di Capitano che saluta il suo popolo ed è subito 1-0 ragazzi Lautaro Martínez ma chi che ha qualche passaggio di Osterra è male gol Lautaro gol Dio non è anche visto non doveva neanche venire qua a scaldare a staccare su di Pisa anche sfiga ciao Roby ciao Roby Lautaro subito gol Lautaro subito gol Lautaro subito gol fammelo vedere non l'ho neanche visto io sto guardando il Catanzaro nessun tifoso sì ma cazzo si ma cazzo si ma cazzo si ma cazzo si ma minchia ho due ciuci però eh dai dai cazzo difesa pietosa ma davvero Lautaro è fortissima gol del 10 campione del mondo che agguanta Osimene Osimene chiama e il toro risponde Osimene chiama e il toro risponde Osimene chiama e il toro risponde siamo a 2 6 14 17 21 21 2 già 2 alla prima giornata grande bene bene questo pallone va a finire ah bene bene devo dire la risposta a Osimene che dicevi tu prima 2 Osimene 2 Lautaro il campionato è dei gol 104 gol con l'Inter 101 con Lautaro Martinez detto prima il bel partito d'ora 21 fa 104 gol con la maglia dell'Inter per Lautaro che giocatino Arnautovic ragazzi eh guarda qua tipo e tu doppio passo tac seguilazione bomber gol e adesso tutte le facce da culo che hanno detto no Arnautovic quelli che dicevano no non posso giocare insieme quelli che però Lautaro prima punta Lautaro ha già fatto due gol questo è il miglior Lautaro di sempre mozza imbarazzante alle 11 devo entrare quindi mancano 20 minuti almeno ce l'ha fatta aspettare ci divertiamo poi facciamo una gag anche con te allora perché tu conosci questo programma Ossi V quelli lì che parlano di calcio c'è il pancio si si te ne frega un cazzo un po' più di figa giustamente prendo anche un'altra sedia qui